Minecraft e Fortnite aggiornati! Ora puoi mangiare le bombe, gli esplosivi e le creature! Stevie fa una passeggiata nel suo accogliente mondo di Minecraft e Baby Enderman è con lui! Alcuni colpi di piccone e Stevie ottiene il suo primo lecca-lecca! È un maiale amichevole! Mescola 200 g di zucchero, 30 g di acqua e 100 g di sciroppo di mais in una pentola Cuoci la miscela per 7 minuti Aggiungi dei coloranti alimentari allo sciroppo pronto Metti un tovagliolo quadrato sotto un tappetino di silicone trasparente E versaci sopra il caramello Modellalo con una spatola seguendo la forma del tovagliolo Inserisci uno spiedino di legno Fai dei piccoli quadrati con gocce di caramello Usa il caramello fuso per creare un muso quadrato dai piccoli pezzi Attacca il muso e gli occhi colorati di caramello al muso del maiale quadrato Steve è circondato dai suoi amici pixelosi E non si aspetta un'invasione dei suoi rivali All'improvviso un paracadutista di Fortnite scende dal cielo Ha in mano una caramella a capo della squadra delle coccole Attento! Metti uno spiedino di legno su un tappetino in silicone Versaci sopra il caramello rosa e modella una testa rotonda e le orecchie Crea il volto di un leader delle coccole con il caramello in diversi colori Attacca i pezzi con caramello fuso Fai un ciuffo di capelli con il caramello rosa Modella la forma con una spatola Aggiungi una cicatrice bianca di caramello sulla fronte Questa caramella dà energia al combattente Fortnite capelli rossi È pronta a conquistare un nuovo territorio Vai piccone! Completiamo questo livello! La combattente capelli rossi perseguita Steve Ha qualcosa di divertente nel suo arsenale È una bomba boogie! Mordila! E balla! Sbriciola un muffin Aggiungi il latte condensato e il burro ammorbidito Mescola Forma la massa in palline Refrigera per 15 minuti Avvolgi le palline nel fondente nero Aggiungi un bastoncino Ritaglia una linguetta dal fondente nero Fissala a una base di fondente grigio E fissalo alla torta esplosiva Aggiungi i dettagli del fondente sulla bomba Taglia il fondente verde chiaro e rosa in quadratini E attaccali alla bomba come pixel La dolce bomba boogie colpisce Steve Comincia a ballare! Guarda le sue mosse! Finalmente Steve interrompe la sua pazza danza Così può tirar fuori il suo esplosivo e avere la sua vendetta Ma prima di tutto mangerà un piccolo pezzo della sua deliziosa arma Sbriciola il pan di spagna nel frullatore Modella la massa in cubetti Refrigerali per 15 minuti Srotola il fondente rosso in uno strato sottile Taglialo in rettangoli e quadrati Ricoprili con la glassa al cioccolato fuso E attaccali sui cubi Appiana le giunzioni Avvolgilo con una striscia di fondente bianco Contrassegna l'esplosivo con un pennarello commestibile Inserisci un bastoncino Crea ne diversi La torta in forma lecca lecca con un esplosivo Sta volando proprio sulla combattente Wow! Steve non ci sente più E la sua rivale non può nemmeno muoversi Ma non durerà a lungo La battaglia continua I giocatori stanno zoppicando nelle loro posizioni Hanno bisogno di ripristinare i loro poteri in questo momento Enderman, l'amico di Steve, gli porta un drink creeper Ti guarirà Premi l'ugello riscaldato di una pistola per colla a caldo Nel coperchio di un barattolo quadrato Ritaglia i pixel quadrati dalla carta adesiva E assembla le parti della faccia di creeper sul vaso Aggiungi colorante alimentare verde alla sprite Versa la bevanda nel barattolo e infila una cannuccia Stevie vede il suo cocktail creeper E la sua energia ritorna subito È pronto a combattere! Anche la combattente capelli rossi raggiunge la sua base Ha del succo slurp fresco che l'aspetta Rivesti con primer il coperchio di un barattolo E coloralo con vernice acrilica argentata Versa un po' di panna nella sprite E dissolvi del colorante alimentare blu Versa la bevanda nel barattolo Ripristiniamo la nostra protezione Questo succo slurp è così appetitoso E ora continuiamo a giocare! Una Dropbox è un regalo dal cielo Controlliamo cosa c'è dentro Monta 200 grammi di burro mollido Versa 400 grammi di latte condensato Continua a montare fino a ottenere una consistenza cremosa Ricopri i wafer quadrati con il composto Forma una torta quadrata Srotola il fondente blu in uno strato sottile Avvolgi la torta Rivesti delle strisce di fondente con acqua E attaccale lungo il perimetro Raschia delle linee con uno strumento di modellazione E crea degli incavi in modo che appaia realistica Rivesti le linee con coloranti alimentari Colora l'intera superficie della torta Crea i chiodi sulla scatola allo stesso modo Taglia le lettere dal fondente giallo usando un cutter E attaccali alla scatola con l'acqua Avvolgi del nastro adesivo attorno a un pezzo di filo metallico Attacca le estremità a una chiusura di un palloncino Inserisci un palloncino Crea dei buchi negli angoli della scatola E attacca quattro pezzi di filo attaccati a un palloncino La nostra combattente capelli rossi si prende cura della cassetta di sicurezza È così dolce! Divora la scatola E dentro trova qualcosa di utile Nuove armi! Nemmeno Stevie perde tempo Sta creando la sua arma migliore È una spada di diamante fatta di carboidrati, grassi e proteine Monta 280 grammi di panna con il mixer Dividila in tre parti e aggiungi i coloranti alimentari Posa dei mini muffin su un vassoio disegnando una spada Ricoprili con la panna montata Incidi un motivo a pixel E riempi i pixel con la crema di colori diversi Usa una sac à poche Eccola la mia deliziosa e meravigliosa spada Ma Stevie vuole perfezionare la forma Rimuoviamo la pietruzza in eccesso dall'elsa Affiliamo la lama E non dimentichiamo la simmetria Stevie aggiusta la forma e mangia la spada Ups, ora è troppo tardi Dovrò combattere a mani nude e ricoperte di... crema La combattente capelli rossi perde la connessione con il suo server Ehi, sveglia! Ecco, è tornata! Stevie scova la combattente Fortnite È la sua possibilità di vincere Tornatene a Minecraft! Ma il proiettile vagante colpisce la testa del partner Il mio Enderman! No! Steve si sveglia Il gioco continua Ecco il piccolo Gust Mi aiuterà a vendicare la morte di Enderman Attacca 4 marshmallow con la colla commestibile creando una fila Tagliali longitudinalmente in 4 pezzi Ma non fino in fondo Crea 2 pezzi di tentacoli Metti 3 marshmallows in fila e crea 4 righe Fissane 4 strati per modellare un cubo Dipingi il viso di Gust con coloranti alimentari Fissa i tentacoli sul fondo con la colla alimentare Questi tentacoli marshmallow sono un ottimo pranzo Stevie rende Gust aggressivo L'importante ora è scappare e guidare la creatura verso l'obiettivo La combattente capelli rossi E mentre la nostra combattente dai capelli rossi non sospetta nulla Ripristina la salute I funghi blu che ha trovato sono molto utili Fissa 4 marshmallow in fila con la colla commestibile Aggiungi colorante alimentare blu a diversi marshmallow Scioglili nel forno a microonde Rivesti uno stampo a semisfera in silicone con olio vegetale E versaci il marshmallow colorato Inserisci il gambo del funghetto Quando il cappuccio del fungo si è indurito Cospargilo con amido di mais in modo che non si attacchi Prepara diversi funghi blu Mmm, i funghi marshmallow sono una grande scoperta La combattente capelli rossi li mangia tutti Ma la distraggono e non si accorge del pericolo Saluti da Steve Questo incontro con il mostro è stato un errore La combattente capelli rossi è eliminata E Steve fa la sua meritatissima danza della vittoria Ti sono piaciuti i nostri dolcetti per giocatori? Scrivi nei commenti quali ti sono piaciuti di più Fortnite o Minecraft? E metti un like al video Iscriviti al canale e clicca sulla campanella Per non perdere nuove idee deliziose Per gli amanti dei videogiochi su Troom Troom Scriviti al canale e revisione a cura di QTSS